Amici di RS Channel siamo qua con Angelo Contino al Superbo Final, grazie Angelo del tuo tempo. Primo evento qua a Sestri Levante che ti vede impegnato in pedana, impressione a caldo? Ma come si vede ora inizialmente sembra veramente un bel evento, organizzato come si deve, speriamo vada tutto bene. Conosci il tuo avversario, ti sei preparato con una strategia particolare, e dici la tua preparazione? No, io non lo conosco, lo conosco solo di vista perché l'ho entrevista alle gare, essendo categorie diverse nelle gare a peso, quindi non c'è mai stata l'intenzione di studiarlo. Mi sono allenato semplicemente con, non con una strategia particolare, ma allenamento, 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 allenamento. Paga quello alla fine insomma. Dobbiamo essere pronti anche per il prossimo match. Abbiamo visto che insomma il livello è alto, ci saranno dei bellissimi match, il tuo cammino dopo questo evento quale sarà? Allora, il prossimo Super Fight, a ottobre, è il Lotto d'Orde Elite, l'evento che organizzano in Accademia, e poi per dopo si vedrà, intanto a ottobre. Allora, noi ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo per questa giornata, e diamo a tutti appuntamento alle 18 per questo Superba Fight Night. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.